Mister Cappellacci, una vittoria importante soprattutto perché fa dimenticare gli ultimi secondi della gara di Ascoli e soprattutto perché bisognava ripartire col piede giusto per continuare a dar fastidio alle due di testa. Sì, soprattutto perché venivamo da un periodo dove i golli si prendevano, continuavamo a farne pochi, ci siamo fatti recuperare più volte e quindi con la classifica che ti allontana da quello che è un tuo obiettivo ci stava un po' di tensione oggi nella partita, quindi sono stato anche sorpreso da come abbiamo fatto il primo tempo. Uno dei migliori della tua gestione, Mister, lo possiamo dire? Sì, forse sì, abbiamo cambiato qualcosina, quindi c'era anche il dubbio che potesse creare altre problematiche alla squadra dopo questi risultati ultimi che non andavano, invece si sono comportati bene. Nel secondo tempo male, molto male perché abbiamo anche parlato del discorso che la partita bisognava ripiarla con cattiveria e magari giocare per fare il terzo gol, invece siamo ripartiti con un atteggiamento che non va bene e poi quando fai cose non giuste, è giusto pure che pigli gol in una maniera, anche qui un gol strano per noi perché abbiamo magari tanti difetti ma alcune qualità ce le abbiamo e stiamo prendendo gol su quelle che sono state le nostre qualità fino a poco tempo fa. e niente, quindi poi la partita è stata un po' sofferta, non è che si sia rischiato tantissimo però sempre con una grande tensione nella parte finale. Mister, scelte tra virgolette direi a sorpresa perché con Bellardinelli che è tornato a destra a fare il braccetto Giulio Dori più largo a destra, insomma ha rivisitato un po' la sua formazione che ha secondo me alcune certezze Angiulli lì in mezzo con Del Pinto, in base al mio parere dovrebbero starci sempre e fortunatamente è arrivato il gol di Marcheggiani che sotto l'aspetto mentale speriamo si sia sbloccato. Sì, Marcheggiani non ha mai dato sensazione che fosse un giocatore che non poteva fare gol purtroppo le nostre caratteristiche mal si sposano con quelle che sono le sue lui ha bisogno di un certo tipo, di alcune soluzioni che noi onestamente non abbiamo anche per l'individualità che abbiamo davanti, gente come Banegas, come Alessandro, come Piscitella comunque gente che è individualista in fondo e lui avrebbe bisogno di un giocatore come me che gli mette la palla a gol, ma non è vero, sto scherzando. Sono contento per lui Parla di te il curriculum, mister. Infatti, ne ne facevo fare. Sono contento per lui e quindi oggi era una partita che dispiace aver fatto un secondo tempo in questa maniera, però io che vivo un po' lo spogliatoio dico che ci poteva stare, anzi pensavo di cominciare male e magari finire meglio nel secondo tempo anche perché avevamo tanti giocatori fuori che potevano darci una grande mano, invece la partita era sempre al contrario come penso.